Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti al Codma di Rosciano per la festa del socio. Nell'ormai tradizionale cornice del Codma di Rosciano si è rinnovato anche quest'anno l'atteso appuntamento con la festa del socio della Banca di Credito Cooperativo di Fano. 3200 persone, soci e loro familiari e amici hanno trascorso una serata all'insegna della convivialità con musica e piatti della tradizione. La festa è stata come sempre l'occasione per il Presidente Romualdo Rordina e il Direttore Giacomo Falcioni di premiare alcuni degli 8000 soci. Sono indubbiamente la parte essenziale, quella che ci costituisce l'essenza della natura mutualistica della banca. Quindi sentire i racconti di chi ha iniziato l'attività prendendo un prestito in banca oppure ha avuto la possibilità magari di conoscere delle soluzioni per la propria azienda perché poi anche questa è una cosa importante, non è soltanto l'erogazione del credito, la banca deve fare anche consulenza. Alla presenza del Presidente del Consiglio Comunale Rosetta Fulvi e dell'assessore Carla Cerchetelli, 19 persone diventate socie nel 1975 e nel 1976 sono state chiamate a partecipare ad una tavola rotonda per raccontare il rapporto con la banca negli oltre 40 anni come soci. Tra questi anche l'ex direttore generale Antimo Venturelli che ha fatto il punto insieme al Presidente Rondina e al Direttore Falcioni anche sulla situazione attuale e futura della BCC di Fano nell'ottica della riforma del credito cooperativo. Al termine della tavola rotonda ai soci è stata consegnata una medaglia d'oro come segno di riconoscimento per la loro fedeltà alla banca. Il primo tempo di quest'anno si è concluso sicuramente con dati molto positivi. Abbiamo realizzato un utile di 3 milioni di euro, quindi sicuramente al di sopra delle previsioni. Contiamo di realizzare un buon risultato, di continuare ad operare bene. D'altronde i nostri soci, i nostri clienti ci stanno dando fiducia. Abbiamo raggiunto e oltrapassato il miliardo di euro di raccolta, quindi è sintomo della fiducia, credere nelle varie forme di risparmio. Questo risparmio che poi la banca impiega e eroga in questo territorio. 650 milioni di impieghi sono erogati per il 90% su questo territorio, quindi a sostegno delle aziende e delle imprese. Si è passati poi alle premiazioni delle prime quattro copie vincitrici del quattordicesimo trofeo di bocce Bicicifano, dedicato a soci, clienti e dipendenti della banca. La serata è proseguita con la cena a base di piatti tipici preparati dalle Proloco e come consuetudine per gli amanti del ballo, la serata si è conclusa sulle note musicali di un'orchestra da ballo.